Ripeto, in fortuna di percorso Conte da domani saprà ristabilire il tutto nel giusto modo. Comunque non siete preoccupati? La preoccupazione deve essere un atto di grande rispetto, di grande responsabilità. Noi con il tempo anche siamo consapevoli delle nostre capacità, dei nostri mezzi, che ci hanno visti fino ad oggi primeggiare, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo stiamo facendo quest'anno. Quindi non ci dobbiamo nascondere, dobbiamo gareggiare di domenica in domenica contro qualsiasi tipo di avversario, sapendo che la Juventus, se la Juventus quando partesse, però deve necessariamente tentare di vincere. La gestione del doppio impegno a campionato, cioè così, di un livello elevato, che cosa vi ha insegnato, se vi ha insegnato qualcosa? Tutto è perfezionabile, noi siamo un gruppo molto giovane, nel senso che è composto da tanti alimenti che ancora non hanno potuto assaporare queste competizioni in conflutanza. E quindi quando poi ci ripresentiamo in campionato, in alcuni momenti magari non abbiamo quella giusta maturità, ma è un sinonimo di inesperienza e non dimentichiamoci che questo è un gruppo assemblato l'anno scorso e di conseguenza abbiamo dei margini di miglioramento e come tale dobbiamo lavorare.